Quando diventa troppo dura ho le mie valvole di sfogo, quando lavoro in fabbrica e le macchine vanno con un certo ritmo. Lo Stato dimostrerà che l'imputata non solo ha perpetrato l'omicidio più crudele e premeditato a recente memoria. Ma quale segreto puoi mai raccontarmi? Sto diventando cieca. Ma che è anche una persona egoista che si nasconde cinicamente dietro a un handicap. È una tara di famiglia ed è per questo che devo risparmiare. Sono venuta in America perché in America possono fare un'operazione a Gina. È la sola cosa importante di tutta la mia vita. Sì, ma ha bisogno di sua madre, lo sai. Tu non capisci, ha bisogno dei suoi occhi. Segui la ragione una volta tanto Selma, niente male più niente. Io sogno di essere in un musical. Perché in un musical non accade nulla di terribile. Sì, ma non capisci.